No! Che è successo? Tonino Cipriani ha tornato il numero uno. Ti stiamo cercando dappertutto, Tonino. Io e te non ci siamo visti. Tu non te ne puoi andare. Sei l'uomo del destino. Ehi, 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 ehi! Questa è una terra sacra. Prima, quinta, era piena di prateri. Sì, stava pieno di bisonti così. Quando una femmina la tiene sottotino, fai scivolare la mano. Piano, 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 boom! Tu mi devi venire a prendere perché io ho paura. Il grande spirito vuole che aiuti l'uomo del destino. Una visione, una missione. Tu sei quello che sei rubato tutti i soldi! Dove l'hai messo il borsone? L'ho nascosto. Senza borsone? Niente destino. Lo sai che cosa ha detto Tonino seduto agli iente? Quando i fiumi saranno asciutti e gli animali stinti capirete che non si può mangiare il denaro. Tu da dici a tuo seduto che non capisci un cazzo. Sapevate che Elio Germano iniziò a far parlare di sé nel 2007 per la scena di nudo integrale nel film Nessuna qualità gli eroi? Nello stesso anno si aggiudicò il primo David di Donatello come miglior attore protagonista con il film Mio fratello e figlio unico. Vi piace Elio? In che ruolo vi ha convinto di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordo come sempre che potete seguirci anche su TikTok trovate il link in infobox. Ciao da Valeria. Ciao da Valeria. Ciao da Valeria.